Il Salone Satellite nasce nel 1998, dopo essere stata richiesta dal signor Mario Armellini, allora direttore generale del Salone Internazionale del Mobile, di creare questo evento per giovani designers che iniziavano la loro carriera e che avevano desiderio di presentare i loro progetti prototipi all'industria del mobile che a sua volta produttori e espositori si trovavano all'interno del Salone del Mobile. Oggi il Salone Satellite ha avuto un bellissimo percorso di cui sono molto soddisfatta perché sono usciti da allora un grande numero di giovani designer che oggi sono internazionalmente conosciuti in questo mondo. L'elenco è lungo e tutti hanno avuto un enorme successo. Sono passati più di 10.000 giovani, più di 300 scuole ed università di design internazionale che portano a sua volta i neolaureandi che conoscono e vivono il mondo del salone e del mondo dell'arrenamento italiano. Nel 2017 festeggeremo i 20 anni facendo vedere i prodotti di tutti questi giovani ragazzi che si trovano sul mercato in tutto il mondo. È stata per me una grande gioia e continuo ad esserlo e sono felice del successo di questa iniziativa. Vi invito a visitare il Salone del Mobile del 2017 dal 4 al 9 aprile. Grazie.